Questa sera abbiamo gli ospiti con gli appuntamenti sportivi, non li abbiamo detti ieri sera, non li diciamo, fino a questa sera rimane tutta una sorpresa. Devo dire che la sorpresa che volevamo fare la possiamo fare. Questo lo possiamo dire, vero? Questo lo possiamo dire, sì. Aspetta un secondo. Allora, vediamo un po', i quattro ci sono agli angoli, sì? Pronta? Attenzione al fischio, si parte. Eccolo qua, va in giro. Riposano la conca e partono adesso i quattro, vediamo se... Tre, quattro, tornate agli angoli, tornate tutti e quattro, non può partire prima. Recupera. No, 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 va bene, va bene, va bene, va bene. Abbiamo detto che se il principe va bene. Stop in questo momento. No. Grazie a tutti.